Viva un gelatino alla ciliesa, pronti via! Mettiamo nel frullatore le nostre ciliegie, io le avevo in frizia perché l'anno scorso me ne eravamo avanzate Aggiungiamo lo zucchero E aggiungiamo anche, io metto il zucco di arancia Non metto il limone, ok? Chiudiamo e frulliamo intanto Aggiungiamo via via la panna In questa maniera Un po' per volta Aggiungiamo anche un po' di licorino E io uso questo piano zapperano Perché sta molto bene Questa è la consistenza Adesso la dobbiamo mettere nella gelatiera Azioniamo la gelatiera E versiamo il nostro composto Sta prendendo forma Ed eccolo pronto! Adesso lo serviamo! Ed eccolo qua il mio gelatino! Ed eccolo pronto il mio gelato alla ciliesa Mmmmm Buono! Cremosissimo! Mmmmm Grazie! Grazie a tutti.